Buongiorno Eribe! Buongiorno, comunque se penso a Beautiful io penso solo a una cosa, posso farlo? Alla sopopera? No, esatto, ma la sigla... A tutti quanti, non so se vi ricordate chi sono i Persiana Jones, vi consiglio di cercare la versione dei Persiana Jones di questa sigla. Ok, ma secondo voi Beautiful c'è ancora? Sai che non lo so, me lo scrivete per favore al 3317853555. Sapete che ho il dubbio che ci sia ancora? Vi direi. Ma forse no. È un programma che io guarderei. No, io no. Io sì. Mia nonna mi costrugeva a guardarlo, era bello. Anche la mia, anche la mia era molto bello. Era bello perché poi scanciava sempre una mancia alla fine, quindi... Che ti dava la manciata per guardare Beautiful. No, vabbè, poi con il fatto che ero lì gli facevo pena, allora appunto mi mollava qualcosa. Vabbè, madonna, che vita viziata. Sì, molto. La mia nonna Bruna mi ha viziato davvero, davvero tanto. Esatto, forse troppo. Ok, povere le persone che vivono con te. Va bene, puoi stare dietro al microfono, grazie. Esatto, va bene, dai, andiamo avanti. Iniziamo a dire le cose, gli eventi a cui io non andrei. Oggi le parole sono poche, ma sono tutte rivolte allo sciopero dei mezzi. Ecco, gli eventi a cui tu non andrai, bene. Sì, gli eventi a cui io non andrò sono... Alcuni sono vecchi, ve lo dico di già. In che senso? Sono già passati? Nel senso che li ho già fatti, li ho già detti. Ah, ok, no, però sono già passati. Nella puntata di lunedì di Trend Me. Ma non sono passati. Non sono passati. Non sono passati, adesso mi metto a fare le cose. Potrei, eh. Eventi passati a cui non sarei andata. Non sono andata, non sono andata. Comunque, Focus Live, Milano. Cos'è, 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 cos'è? Focus, il giornale, fa uno spazio live. Bellissimo. Sì, molto bello, un peccato che siano pieni di nerd. Ma è cos'è? Al Museo della Scienza e della Tecnica inizia oggi Spazio, Tecnologia e Ambiente dall'8 al 10 novembre. Vabbè, so dove andare questo weekend. Ecco, divertiti. Baci da solo. Va bene. Però, volendo, sabato, puoi andare anche a un evento a Marcord. Al forum di Asago c'è il croncetto di Brian Adams. Please, forgive me. Vedo tutte queste ragazze degli anni Ottanta, nel senso che non che sono nate negli anni Ottanta, ma che erano già grandicelle negli anni Ottanta, che si vanno a ascoltare Brian Adams, che tra l'altro è un gran figo ancora. Dove avere 16 anni, più o meno negli anni Ottanta. Eh, sì, secondo me sì. Però adesso non so bene in che anno sia uscito Brian Adams. Forse qualcuno al nostro numero lo può sapere. Sì, va bene. E ce lo dirà. Un evento... Beh, è bello quante cose non sappiamo e dobbiamo chiedere l'aiuto da Carlo. Ragazzi, io voglio dirvi, questa rubrichetta è una rubrichetta storica ormai, ma comunque prenderla da un'altra rubrichetta che si chiama... Che si chiama... Non lo so. Piccola guida non approfondita. Ah, ok. E così è la piccola guida non approfondita degli eventi. Ah, perfetto, ok. Ok, lunedì. Lunedì. Hai da fare alle 21? Ho finito... C'è Trendy. Esatto. Ma c'è anche Emma... Cioè, è finito Trendy. Emma in the forum. Ah, il concerto di Emma. Sì. Che t'amarra, raga. Sì. Però mi piace tanto a me, Emma. No, io non credo che ce la potrai fare. Emma... Un intero concerto no, dai. Sì, no, Emma è un po' come la Pausini per me. Cioè, nel senso, vorrei tanto essere amico loro, ma non ascoltare le loro persone. Ah, intanto la Pausini e Emma giaccano in due campionati diversi. Completamente. Oh, di simpatia no, secondo me. No, insomma. Entrambe tutte simpatiche, secondo me. Anche nella simpatia. Ma tu ne conosci, no? Ne sai tu, cioè? No, io non so niente. Io non so niente, so solo che non ci andrei. Va bene. E ne ho altri tre, però. Dai, ce li dici fra poco, allora. Sì, dai, le dico troppo. Dopo una prossima canzone, che so questa invece piacerti. E magari ci andresti anche a un concerto suo. Eh, non lo so. Tu ci andresti a un concerto di Regina Spector? Assolutamente sì. E allora ascoltiamoci Regina Spector con Fidelity, 7.42, Crystal Radio. Regina Spector con Fidelity, alle 7.46, Crystal Radio, qui con Eri B, per gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe. Nel frattempo al 3317853555 non ci danno informazioni, perché nel nostro pubblico... Va bene, va bene. ...ma ci danno i giudizi loro. Ah, ok. E quindi, Nello dice, pausini tutta la vita, Emma pollice verso. Anche per me. Siete già incattiviti così a quest'ora. E poi arriva un messaggio di Alberto che dice un saluto a Eri B. Ciao Alberto. Emma, molto top nella recitazione. Ah. A casa tutti bene. A casa tutti bene. È la serie di Muccino, dove urlano tutti, come sempre. Lei fa delle urlate pazzesche. Adesso c'è il nuovo film di Muccino, no? Devo andarla a vedere, perché non posso perdere. Ma non so se sapete che è stato girato due volte. Nel senso? Nel senso che il film esiste sia per il mercato italiano che per il mercato internazionale. Sì. Tutte, tutte le scene sono state girate prima in italiano e poi in inglese. Muccino è folle. Sì, lui è veramente folle ed è un regista. Sì, sì, sì. Follemente lo amiamo per questo. Sì, 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 sì. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Come te nessuno mai. Nello mi manda un messaggio. Anche lui dice, Fabio, mi saluti Alberto. Va bene, te lo saluto. Ciao Alberto, te lo saluto anch'io. Ciao Alberto da Nello. Va bene, facciamo così. Va bene, andiamo avanti. Evento degli eventi a cui io non andrai è uno degli eventi classici dove io non andrò mai. È Leikman! Che bello! Donne motori, come mi piace proprio! Va bene, non è male. No, assolutamente no, ragazzi. No, e sono vicina a tutte le hostess che saranno presenti all'evento. Ma alcune magari piace anche. Cioè, gli piace anche fare... Può essere, ma io le sono vicine allo stesso. Va bene, ok. Ok, a te piacerebbe? Stagli vicino, sì. Mamma mia, che mascolinità tossica. Andiamo avanti. È un po' mascolinità tossica l'Ekma. L'Ekma? Non lo so, ma quando ho parlato di Ekma, motori così, ho pensato, però magari c'è il simulatore di Formula 1. Ecco. Quindi, pensa, non ho pensato alle donnine, ma ho pensato al simulatore di Formula 1. Perché qua abbiamo delle altre problematiche. Quindi forse era meglio se pensavo di stare di fianco alle donnine. Ma non lo so, guarda. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Dinos Alive. Per la prima volta a Milano... Dinos Alive. Alive. Sì. Per la prima volta a Milano la più sorprendente esperienza immersiva dedicata al mondo dei dinosauri. Eh, Jurassic Park. Raga, quanti bambini ci saranno? Eh, tanti. Ma perché i bambini sono così infognati ai dinosauri? Perché sono una cosa... Ce lo chiedevamo io e M&M lunedì. Sono una cosa fantastica. Non siamo stati capaci di rispondere. Io credo che sia, perché un po' ricordano i mostri. Ah, dici. Un po' sai che in realtà sono una cosa... Cioè, non sono inventati. No? Sono stati reali. Comunque, cioè, nel senso, ci sono esistiti davvero. Ci sono i fossili. Eh, appunto. E quindi, secondo me, è proprio una voglia. E poi è un po' come i Pokémon, no? Perché ci sono le varie... I collezioni. No, sì. Perché ci sono tutte le varie famiglie, tutte le varie specie. Ma tu sai che usciranno dei nuovi Pokémon? Sì, ho sentito, ho sentito. Usciranno dei nuovi Pokémon perché sono stati ritrovati questi disegnetti di Pokémon. Disegnetti. Che usciranno nel prossimo futuro. Sì, sì, no, perché uscirà la nuova versione di Pokémon. Non so che colore siamo arrivati, ma sì, usciranno... Ringrazio le dirette di un'altra radio a Luca Comics, che ovviamente è un altro degli eventi dove non andrò mai nella vita, ma proprio neanche fucilata in testa. Ok. Volevo concludere, ma non so se è ancora dello spazio o meno, volevo concludere con un evento che mi è capitato, pensate, come pubblicità su Instagram. Quindi Instagram mi conosce veramente, veramente bene. Ma magari sa della tua rubrica. Esatto, è probabile. O perché magari cerco ovunque questi eventi. Infatti. Che inizia questo oggi, quest'oggi. E va davanti domani e domenica al Parco Verdi di Corsico. Ok. Sei pronto. Cosa ci potrà essere? Non c'è la piscina, non c'è la piscina lì. No, non è, quello è il Parco Giorgella. Ah, no, non lo so. Ok, al Parco Verdi di Corsico c'è la Sagra del Fungo e del Tartufo. Tipico di Corsico. Amici, Corsico non ha boschi dove andare a cercare funghi e tartufi. Funghi magari sì, tartufi non lo so. Nella prossima settimana vi darò un altro evento che ci andrà con i tartufi che ho trovato. È veramente una roba di un'assurdità pazzesca. Ma questa è la chicca per la prossima settimana. Però adesso, cara Proloco di Corsico. Parliamo io e te, ma sicuramente sì. Parliamo io e te. Ma perché fare una Sagra del Fungo e Tartufo quando si poteva fare, che ne so, il Fungo. Corsico è pieno di pugliesi. Eh, cosa vuoi dire? Della mozzarella, la gioiella, i taralli e cose del genere. Invece siamo andati a finire su Funghi e Tartufi. A me gli piaceranno. Vi giuro che mi piacerebbe fare un salto e che non ho tempo. Mi piacerebbe fare un salto per vedere come è organizzata. Speriamo che il tempo legga almeno Poveri Cristi. Oltretutto, come giustamente ci dice Alberti, dice Funghi e Tartufo, carissimo oltretutto. Eh, sicuramente, sicuramente. Perché poi ricordiamoci, Corsico. Eh, Is Burning. No, a parte Is Burning, ma prima o poi diventerà anche un comune di questa città di Milano. Un comune, sì, un municipio. Prima o poi diventerà parte integrante di Milano. Sì, ragazzi, Corsico è Milano. È come se facessimo una sagra del Fungo e Tartufo in Piazza Duomo. Vabbè, magari c'è, magari. Vabbè che tra poco arrivano le bancarelle, i funghi e i tartufi sono sempre lì, eh. C'è anche di peggio, sono i pezzocchi. Mamma, ragazzi, ragazzi, stanno per arrivare. I canederli, i canederli. Mamma mia. Stanno per arrivare le bancarelle sotto al Duomo. Eh, non sei contenta? No, no. Quelli sono al pari della fiera di artigianato. Pure? Vabbè. E.B., grazie. Grazie a voi. No, non è più nient'altro. No, no. No, io questa mattina faccio fatica tantissimo a parlare. Molto probabilmente l'umidità. Ah, può essere per quello. Non è tanto il freddo, ma quanto l'umidità. E poi perché mi sono rotto un dito. Ma non si sa se è rotto. Sei tu che lo dici da mezz'ora. Sei un osteopata. Ma cos'è un osteopato? Un osteopatico, semmai. Ho il pollice un po' gonfio. Vabbè. Se lo sono muota. Oppure uno con un martello in mano così. E va bene, è andata così, ragazzi. È stato bello. Se mai dovesse succedermi qualcosa, portatela avanti voi questa rubrica. Va bene. Grazie per il tuo lasciato, allora. Va bene. Buon weekend e divertitevi a tutti questi eventi dove io non andrei... Ma c'è qualche evento a cui tu andresti? Sì. Tipo? Quelli dove non ci sono i bambini, vorrei andarci tutti. Ah, ok. Allora, non ci devono essere bambini e gente veramente infognata male. Ah, è un po' difficile. Cioè, tipo, il salone del libro dove ci sono tantissime persone infognate, non ci andrei. Cioè, allora, di base la discrimine sono bambini e tantissime persone. Comunque, il cinismo di Eribi di prima mattina è meraviglioso. Questo è il WhatsApp che manda Adriana. Pensate voi che pubblico abbiamo. Esatto. Questo è il pubblico che ci meritiamo. Grazie. Grazie a tutti quelli che ci avete ascoltato. Grazie anche Anello per i suoi messaggi. Grazie a Eribi per i tuoi eventi. Grazie a voi per avermi invitata. Va bene. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui. Ho già visto che sono arrivati gli ospiti della prossima ora, quindi adesso il giornale radio, un po' di musica e poi torniamo qua in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano fino alle 9 in diretta qui tutta la mattinata e poi mi raccomando, magari salvate la notte, anzi, safe tonight.